Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Il fondamento cabalistico nella dottrina di Martinez Non possiamo neppure dare una sintesi della cabalà. Ci limiteremo ad accennare che essa è un complesso di studi sotto forma di commentario esoterico della tradizione religiosa ebraica impostati su un libro, la Torah, composta dai primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, e cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Questo commentario è lo Zoar, che ha un insieme di più trattati, tra i quali ricordo la Grande Assemblea, la Piccola Assemblea, le addizioni allo Zoar, il Nuovo Zoar ed ovviamente il Libro degli Splendori che dà il titolo alla raccolta. Accanto allo Zoar dobbiamo porre il Sefer Yetzirah o il Libro della Creazione che concerne essenzialmente la cosmologia che spiega l'origine delle cose per mezzo della parola di Dio che ha prodotto la creazione con l'aiuto delle 32 vie della saggezza vale a dire dei dieci sefirot, numeri, e delle 22 lettere dell'alfabeto. Il terzo libro che vogliamo ricordare è il Libro dell'Angelo Rastel che è un completo trattato di nomi e del loro impiego sotto forma pentacolare. La Kabbalah, che in sostanza significa tradizione ricevuta, si propone e propone al ricercatore di scoprire la natura dell'essere mediante la speculazione di natura esoterica e l'esperienza di natura mistica e teurgica. L'essere, Dio, è chiamato Ensof, l'infinito che mediante il Verbo, il Seme Divino, ha fecondato il niente per creare il mondo. Il Verbo, che alla forma dei segni dell'alfabeto, manifesta l'essere in atto con quattro emanazioni o polarità o piani o mondi, che sono È su questi quattro mondi che si manifestano i dieci sefirot o numerazioni astratte, mediante le quali possiamo intelligere l'azione divina e l'esistenza del mondo. I sefirot non hanno alcuna realtà sostanziale. Essi sono e rappresentano gli attributi dell'essere e in ciascuno di questi attributi la sostanza divina è interamente presente. Nel loro insieme formano l'uomo celeste di cui l'uomo terrestre è il riflesso. Essi sono rappresentati mediante diagrammi, veri pentacoli aventi il carattere dell'universalità, a forma di albero, a forma di cerchio, a forma di dieci centri concentrici, eccetera. Quella che riportiamo è la forma più usuale. Dobbiamo aggiungere che a ciascuna sefira corrisponde un nome divino ed esistono numerose tavole di corrispondenze che si possono utilmente impiegare sia per lo studio sia per la pratica. Le sefirot sono connesse da 22 sentieri e sono designate dalle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. I 22 sentieri, insieme con le 10 sefirot, formano le 32 vie attraverso le quali la sapienza discende in stadi successivi sull'uomo. Del pari, esse consentono all'uomo di risalire fino alla fonte della sapienza percorrendo in ascesa i 22 sentieri. Questa tabella sintetizza le relazioni finora esposte. Concludendo, possiamo dire che la Kabbalah concerne l'interpretazione esoterica delle lettere dell'alfabeto ebraico, l'interpretazione dei nomi divini, lo studio dei sefirot come manifestazioni, del lens off, come attributi divini e come elementi costitutivi dell'Adam Kadmon, prototipo del mondo materiale, e dei kilipot, forme materiali del mondo fenomenico. Accanto al pentacolo universale formato dai 10 sefirot, cui tutto si ricolloca, secondo la nota legge delle analogie, indipendentemente dal mondo cui appartiene, colori, note musicali, cieli, angeli, parti anatomiche, qualità, facoltà, eccetera, e basandosi su di esso prende sviluppo la forma pratica della Kabbalah, che è teurgica, che è magia, che è arte trasmutatoria, sintesi delle applicazioni pratiche della scienza dei templi, scienza templare, delle antiche civiltà egizie e medio orientali, caldea, babilonese, mazdea, mitrica, eccetera, successivamente confluite e ritrascritte nella gnosi, vera forma mediterranea da far rivivere, sorella dell'ermetismo, se si sa leggere. Ciò detto, vediamo quanto e come sia possibile stabilire un parallelismo tra Kabbalah e Martinezismo. Nel trattato, Martinez scrive che Dio emana degli esseri spirituali, a sua gloria, nella sua divina immensità, e prosegue. Ci si domanderà chi fossero questi primi esseri prima della loro emanazione divina, se essi esistevano o non esistevano. Essi esistevano nell'immensità, nel seno della divinità, ma senza distinzione di azione, di pensiero e di intendimento. Essi non potevano né agire, né sentire, se non per mezzo della sola volontà dell'essere superiore che li conteneva e nel quale ogni cosa era muta. In verità, esistere così non significa esistere. Non vi sarebbe affatto un creatore senza il regno infinito degli esseri che sono in lui innati e che egli emancipa per mezzo della sua volontà e quando piace a lui. È per mezzo di questa moltitudine infinita di emanazioni di esseri spirituali che gli compete il nome di creatore e alla sua opera quello di creazione divina, spirituale, animale, spirituale, temporale. Questo Dio di Martinès, come l'Einzhoff, ha e contiene in sé, in potenza, ogni essere creato. Einzhoff è un essere infinito, libero, identico a se stesso, unito in sé e ci sembra qui opportuno trascrivere quanto dice il Frank, riassumendo l'esoterismo ebraico, su questo assunto. Dio, innanzitutto, è l'essere infinito e quindi non deve essere considerato come l'insieme degli esseri né come la somma dei suoi propri attributi. Ma senza questi attributi e gli effetti che ne risultano, vale a dire senza una forma determinata, è impossibile comprenderlo o conoscerlo. Questo principio è assai chiaramente enunciato quando si dice che prima della creazione Dio era senza forma, non assomigliava a niente e che in quello stato nessuna intelligenza lo può concepire. Ma non volendo limitarci a questa unica testimonianza, speriamo che lo stesso pensiero sarà facilmente riconosciuto nelle seguenti parole. Prima che Dio si manifestasse, quando tutte le cose erano ancora celate in Lui, Egli era il meno conosciuto tra tutti gli sconosciuti. In questo stato non può avere altro nome che quello che esprime l'interrogativo. Egli comincia a formare un punto impercettibile. Questo fu il primo pensiero. Poi si mise a costruire con il suo pensiero una forma misteriosa e santa. Infine la ricoprì con un vestito ricco e smagliante. Noi vogliamo parlare dell'universo il cui nome entra necessariamente in quello di Dio. e da Dio dall'Ensof il passaggio ai Sefirot è breve. Vediamolo secondo la Kabbalah. Nell'Idra Suta è scritto L'Antico degli Antichi è nello stesso tempo lo sconosciuto degli sconosciuti. Egli si separa da tutto ma non ne è affatto separato perché tutto si unisce a Lui come a sua volta Egli si unisce a tutte le cose e non vi è nulla che non sia in Lui. Egli ha una forma e si può dire che non l'ha. Prendendo una forma Egli ha dato l'esistenza a tutto ciò che è. Egli dapprima ha fatto sorgere dal suo seno dieci luci che brillano per la forma che hanno da Lui ricevuta e rispandono dappertutto un chiarore immenso così come un faro invia in ogni parte i suoi raggi luminosi. L'Antico degli Antichi lo sconosciuto degli sconosciuti è un faro elevato che lo si conosce soltanto attraverso le sue luci che brillano ai nostri occhi. Queste luci sono i Sephiroth. Ambelen scrive a questo proposito Per mezzo dei Sephiroth noi comprendiamo le potenzialità emanate dall'assoluto Ainzhov e che sono tutti necessariamente delle entità limitate sia per la qualità come per la volontà. Senza cambiare di natura differenziano le cose che sono le possibilità delle cose multiformi. Ogni effetto ha una causa e tutto ciò che dimostra ordine ed intenzione ha un direttore. in più tutto ciò che è visibile ha un limite e ciò che è limitato è finito e ciò che è finito non è assolutamente identico. Essendo la causa prima del mondo invisibile ella è dunque illimitata infinita assolutamente identica e corrispondente alla definizione del Ainzhov. I Sephiroth sono necessariamente gli intermediari tra l'Anshov e il mondo contingente. In effetti questo mondo è limitato ed imperfetto non procede quindi direttamente dal Ainzhov ma questo deve necessariamente esercitare la sua influenza su di lui e se fosse altrimenti il mondo non esisterebbe. Da qui la necessità di un intermediario l'insieme di Sephiroth che in virtù dell'intima connessione con l'Anshov costituiscono un tutto perfetto ma che a causa della loro pluralità sono necessariamente imperfetti. Ora poiché tutte le cose esistenti sono nate dalla loro azione e poiché esse stesse sono differenti tra di loro vi è una sommità uno stato mediano ed un grado inferiore nel mondo reale. Perché vi sono dieci Sephiroth? Ogni corpo ha tre dimensioni e ciascuna ripete le altre tre aggiungendo lo spazio abbiamo tre per tre nove più uno dieci Ora poiché i Sephiroth sono le potenzialità di tutto ciò che è essi debbono essere il numero di dieci pertanto questo numero definendo la pluralità tipo costituisce anche un ritorno all'unità poiché contiene in se stesso tutti i numeri principali da uno a nove quanto abbiamo sin qui esposto serve per farci comprendere Martinez i Sephiroth sono gli spiriti denari e ad essi si applica tutto ciò che nella Kabbalah si riferisce ai Sephiroth ecco ciò che scrive Martinez nel suo trattato i primi spiriti emanati erano innati nella divinità essi sono reali ed immortali essi hanno un'esistenza personale assoluta ed eterna essi esistono sempre nel cerchio divino sono detti spiriti superiori o denari perché dieci è il numero divino origine di ogni essere spirituale maggiore inferiore e minore e di ogni legge di azione sia spirituale sia spiritosa non elencheremo tutti i passaggi che si riferiscono ai Sephiroth ma come ha fatto ben notare le forestier il tema kabbalistico dei Sephiroth si impose così dispoticamente all'immaginazione di Pesquali che per una volta si allontana dalla prudenza con la quale ordinariamente dissimulava i suoi prestiti egli rimarca in effetti che la circonferenza divina che fa da supporto al denario è chiamata dominazione ora dominazione o reame è precisamente il nome della decima sefira Malkuth che rappresenta nel sistema kabbalistico la somma del mondo intellegibile prima triade dei Sephiroth del mondo morale seconda triade e del mondo fisico terza triade e che è l'armonia dell'universo nel trattato troviamo anche le 32 vie della saggezza cosa sono? sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico che costituiscono i sentieri dell'albero della vita addizionate ai 10 Sephiroth l'insieme costituisce tutto l'universo e la sua rappresentazione a qualsiasi piano o livello dell'essere bene Martinez mediante le sue trascrizioni il linguaggio accessibile al milieu mezzo in francese nel quale operava dice che ogni spirito superiore 10 maggiore 8 inferiore e minore 4 al momento della prima emanazione aveva il suo soggiorno nella circonferenza divina a ben guardare abbiamo 10 più 8 più 4 uguale 22 corrispondenti al numero dei sentieri che in aggiunta ai Sephiroth ci danno le 32 vie della saggezza è noto che il minutum mundi sia divenuto uno strumento essenziale per l'operatività martinista e a seconda del grado di progresso raggiunto dall'operatore uno strumento di conoscenza e di meditazione ad un certo punto dell'iter operativo il martinista e non riveliamo alcun segreto corporalizza l'albero della vita a significare per vivere ed essere l'identità tra microcosmo e macrocosmo in attesa di realizzare attraverso l'opera il processo unificativo bene ed ovviamente aggiungiamo questo processo e questo parallelismo consonante tra microcosmo uomo e macrocosmo Adam-Cat-Mon si rivela ad ogni piesso spinto nel trattato sì che non è neppure il caso di esaminarlo mediante altre citazioni abbiamo dato dei colpi di pennello con i quali si dimostra la radice la base cabalistica della dottrina segreta di Martínez de Pesqually senza poterci diffondere i studi e paralleli che ciascun lettore si è interessato alla cosa mediante la bibliografia riportata è in grado di ricostruire per proprio conto per erudizione propria e per un auspicabile ampliamento dei limiti del suo campo di coscienza ma i colpi di pennello sono le basi su cui poter costruire ricostruire rendere leggibile il contenuto essenziale del martinismo in carenza del quale esiste solo un vago atteggiamento martinista assolutamente negativo e non costruttivo se si è martinisti si deve essere necessariamente martinezisti e cabalisti non è vero come sostengono alcuni che il martinismo deve definire le sue basi e il suo punto di arrivo le une e l'altro sono esattamente tracciate leggibili e realizzabili solo che si possieda la volontà di comprendere e realizzare senza di ciò si possono possedere vernici smaglianti di gradi e brevetti archivi e lettere e documenti ma non si è perché non se ne è compenetrato lo spirito